Sempre Valghisancho, sempre Bon, andiamo da chi quest'anno è lì, seduto su una panca, un amico del Tor, Pablo Chieado, finalmente il Tor è vissuto su una panca e non con la fatica. Hai visto, ho avuto ragione quando ho detto l'anno scorso basta Tor, questo anno lo faccio più semplice, più bello anche, perché guardare gli amici che stanno gareghiando è un'esperienza spettacolare. Ecco, ma tu adesso vedi il Tor da un altro angolo, da un altro posto, ma che cos'è questo Tor visto dal pubblico? Dal pubblico è una manifestazione dalla Madonna, è spettacolo, vedi tutti, la gioia della gente, i concorrenti familiari, amici, tutti i posti, i campanelli, questo è un spettacolo. Tu Pablo sei un po' l'ambasciatore del Tor in Spagna? Io sono uno che ha amato questa gara dall'inizio e che la continua a amare, sempre stato al fianco del Tor perché è la gara che mi ha dato tutto quello che so come corridore, alla fine se non sono qui non sono in nessun posto. Grazie a Pablo, andiamo anche, poi chiuderemo con le donne del Tor, vedo e qui la prendiamo, non si troverà ma lo facciamo con dischezione, andiamo da una sorridente Manella Scillatonetti, faccio diventare matto il mio operatore ma va benissimo così, è il bello della diretta, menù per Scillatonetti, brodo e riso o no? Stavo dicendo appunto a mia sorella di andare a prendermi una minestrina di verdure e se mio papà dovesse sapere che sto mangiando la minestra di verdure me la propina tutto l'anno e il mio è sempre un rifiuto a casa. E sei spacciata? Sono spacciata, dovessi vedere questo video se... Lo vedrà? Ecco, minestra di verdure tutto l'anno, l'ho sempre rifiutata e invece qua chissà come mai diventa buonissima. Scilla, che te stai facendo benissimo sin qui? Beh, per ora va tutto bene, mi sto divertendo, tengo il mio passettino, se va arriviamo in fondo. Detto al papà della Scillatonetti, confermo minestra di verdure, quindi papà mangia pure la minestra Scillatonetti. Sì, mangia la minestra. Vediamo, magari è quella che mi dà la carica per la salita, per passare la notte, la prima notte, chissà, vabbè, vedremo. Bocca al lupo. Grazie. Questo è il contributo dalla base vita di Bonn, dalla contea di Bonn, ancora uno sguardo in uscita su questi uomini e su queste donne. Questo è un turno importante, ma poi tutta la notte qui. Siete voi, siete voi Val Grisange, Bonn, la contea di Bonn, va detto. 20 abitanti e poco più state facendo un grande lavoro, siete grandi voi, volontari. Grazie a tutti coloro che corrono, grazie a loro, sono loro i primi, più che noi, coloro che sono i nostri atleti. Una curiosità, ma qual è il piatto forte, quello che tutti vi chiedono? Pasta, pasta in bianco e pasta al pomodoro. E brodo. E brodo. La richiesta invece più stramba che avete avuto sin qui? Pesce. Per il momento niente di strano. Un saluto al TOI. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.